La seconda o terza domenica di luglio a Bari Sardo si svolge la Sagra dei Nenniris. In località Marina di Torre si svolge la processione in cui la statua di San Giovanni viene portata sul mare accompagnata da un corteo di donne che reggono sulla testa i Nenniris, che sono dei vasi in cui i semi di grano e di legumi sono stati fatti germogliare al buio così da renderli bianchi. I vasi adorni di nastri colorati vengono poi gettati in mare come gesto di propiziazione per i raccolti.